l'epoca via carlo ammazzare di aria parola aiutare ora ci sono le prove in bascura in maniera passiamo a fare guardate guardi è lì Mascio va Silvino, tipi, tipica dinner, ehm, italian dinner, wine and pizza, the best food of the world, e' a scella, ma il bambino se che il dune è il porno, pizza with mushroom, pizza with mushroom, il mascio sta madre, white wine, che è quel fumigoni lì? E' il Pasqua, ma la sola perché è casa sotto, io, ma la sola cosa, che mi ti dice, che cosa? Guardalo, guardalo, non guardalo, non ci vedo mai, paragonalo Mascio, il classe R della Mercedes con l'Audi V7 e con il BMW 525, vai la giù, vai la, vai la, non si può paragonare la Mercedes con l'Audi, Ma cosa dici? La ho dici? No, spavolum, ma sta' tì, ma sta' tì, ma sta' tì, ma sta' tì! Guarda, hai qui, guarda, hai la serie di Babbia di Bruno? Ma proprio sai vuol dire, l'ifik, l'ombardina della Mercedes con l'Ute V8? E Babbi, dammi una SLH che lo fa bene, l´SLH che lo fa bene, intanto è l´SLH, è l´SLH. L´SLH. No, venga abba SLH, l´SLH fa bene tutto perché. Guarda, noi sono sovagnoli a tavola, la misi merda, è stato sovagnoli, la sovaglia e non esistono su dici si mangia a cavola e ci sai bidet davvero e non ci rimangono d'arzanelli no d'arzanelli non fatti no d'arzanelli non fatti a manca a voi c'è se l'avevate fatto così e così no no te mi copulo in italiano no a me no io sì oddio era bruttissimo il gesto fatto così mi ha fatto la merda lì sopra è bellissimo era bruttissimo io avevo paura di tasagli ragazzi ah io l'avevo dire di tasagli guarda quanto sai il museo non ci vedo no davvero no davvero poverumale l'ho fatto ero felice per che gli raccontavo sei andato dalla casa ma mi sento che fa lo vuoto mi chiede ero felice intanto per la casa perché avevo visto e poi e poi perchè se il nodio non tasavo a lui che ti diceva ahahah 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 ti fa un testa piede ma sciotta guarda un altro du malo ti hai fermi il pacco ahahah ahahah hai posto tipico italian boy italian boy italian boy ahahah ahahah la mia un bicchierino di tipito da dare la testa un bicchierino di mira a me tipico stupid boy ahahah 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 tipico gay italiano ahahah 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 hai visto il video di Flavia che c'ha sormessenne l'italiano è va a Malta è bellissimo ahah si è visto noi quando si era da poli poli è bellissimo che gli ha fatto che gli va è fantastico io li so scarecciando anche io ma se non sei a vederlo da poli poli quando si era tutta il comune è uno lì che dice no io sono famici no ma infatti io dico in Italia no voglio eh no nono ma nono ma sì bellissimi io voglio proprio l著i virtù sb v as as calci l'all non ho visto questo video andiamo a vedere non ci vuoi la mangiare non ci vuoi la mangiare ma non lo sanno non ti via non ti sia la mia racconto ma io ti vedo